Un saluto caloroso a tutti voi, do il benvenuto al Presidente Fico in questa sala prestigiosa che è la sala dove è stata firmata la Costituzione italiana, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. Grazie, sono contento di poter fare oggi questa iniziativa insieme a lei perché io credo che le istituzioni su temi importanti ma in generale sempre in un momento poi così difficile debbano viaggiare insieme, quindi fare le cose insieme è importantissimo, quindi grazie. Quest'anno la giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza assume un significato ancora più importante. La pandemia, che ha colpito milioni di persone nel mondo provocando morte e disagi, rischia di lasciare segni pesanti anche nel nostro futuro e non soltanto per la salute e l'economia ma anche sul piano sociale e antropologico. Domani, sui libri, i bambini e gli adolescenti che stanno vivendo questo tempo difficile e incerto sono destinati ad essere ricordati come la generazione Covid, la generazione dell'infanzia e dell'adolescenza chiusa dietro una porta. I ragazzi cresciuti nella solitudine, nell'isolamento, i figli di internet che hanno dovuto rinunciare alla socialità e ai rapporti umani per sostituirli con la tecnologia e la realtà virtuale. Oggi spetta alle istituzioni riflettere sulle strategie e sui rimedi possibili. Penso alla scuola, all'esigenza di investire realmente sulla didattica in presenza, rafforzando le misure di sicurezza e i controlli. Penso all'esigenza di sostenere le famiglie con servizi di supporto, soprattutto a favore dei bambini con disabilità, i più fragili tra i fragili. Con l'isolamento rischiano di aumentare i casi di cyberbullismo. Con sport, cultura e socialità di intermittenza bisogna affiancare i genitori nell'inventare nuove attività ricreative ed educative, Covid sostenibili, in presenza e a distanza. E poi, non possiamo abbassare la guardia sulla violenza domestica. A tutti loro, vulnerabili e spesso invisibili, abbiamo il dovere di dare voce e fiducia attuando la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ai bambini poveri, ai disagiati, agli ultimi, a tutte le piccole vittime dell'infanzia negata, a tutti loro dobbiamo ridare la speranza. È necessario, infine, che in questa giornata le istituzioni ricordino che bisogna essere al fianco di tutti coloro che operano per garantire la protezione e il benessere delle generazioni più giovani. Ringrazio il Presidente Ronzulli e il Ministro Bonetti per avere promosso questa occasione di confronto. Sono certa che la Commissione per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia insieme sapranno trasformare le sfide dell'oggi in reale prospettive di crescita per i nostri figli e i nostri ragazzi. Concludendo, permettetemi di citare due persone in particolare. La prima è Carla Garlatti, il magistrato al quale, assieme al Presidente Fico, abbiamo scelto di affidare il delicato ruolo di garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Una figura di alta competenza, di alta professionalità, che ne siamo certi saprà portare avanti con esperienza, capacità e sensibilità tutte le battaglie necessarie per difendere e sostenere i nostri ragazzi. E poi vorrei ricordare il Presidente dell'Unicef Italia, Francesco Samengo, che non c'è più. Un uomo che ha dedicato buona parte della sua vita per aiutare a costruire un mondo a misura di bambino. Ci lascia un esempio da seguire e una esortazione che oggi voglio qui ricordare. Dobbiamo costruire una cultura dei diritti umani dei più piccoli, non solo in termini di promozione e protezione, ma anche di ascolto e protagonismo delle loro voci. Ed ora sono lieta di dare la parola al Presidente Fico. È un piacere essere qui al fianco del Presidente Casellati per questo messaggio in occasione della giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ringrazio la Presidente Ronzulli per l'organizzazione di questo momento di confronto su un tema più che mai importante. L'impatto della pandemia sui diritti dei più piccoli in tutto il mondo è infatti preoccupante. In particolare per i minori che vivono in contesti di disagio economico e sociale, il rischio è l'acuirsi delle disuguaglianze. Deve essere quindi un impegno primario della politica e delle istituzioni assicurare che anche nella difficile fase che stiamo vivendo non siano messi a repentaglio i principi garantiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite. A questo proposito mi unisco alle parole del Presidente Casellati per augurare buon lavoro alla nuova garante per l'infanzia e per l'adolescenza, Carla Garlatti. La sua esperienza e la sua competenza saranno preziosi in un momento dedicato come questo. Occorre assicurare a tutti i bambini e adolescenti l'opportunità di vivere la loro età serenamente tra studio, formazione, gioco, confronto con i propri coetanei. L'opportunità di poter costruire il proprio futuro. Per troppo tempo le istituzioni, non soltanto nel nostro Paese, ma a livello globale, non hanno dato spazio adeguato alle stanze dei giovani. Nelle scelte pubbliche sono quasi sempre prevalsi gli interessi immediati e le rivendicazioni delle generazioni di età più avanzata. Si imposta così una visione a breve e medio termine, volta ad ottenere tutto e subito. Sono state ignorate a lungo le conseguenze delle politiche, dei comportamenti e degli stili di vita sulle generazioni future. Il principio di solidarietà fra generazioni deve essere invece un principio guida delle nostre azioni, come adulti, come politica, come istituzioni. Per fare questo dobbiamo ricordare quotidianamente che ogni scelta che prendiamo oggi, a cominciare da quelle sulla scuola, ha un impatto sui più piccoli. Condiziona irrimediabilmente il loro futuro come quello del Paese intero. Anche per questo, come Camera dei Deputati, in collaborazione con il Senato e il Ministero dell'Istruzione, abbiamo voluto rilanciare quest'anno i progetti dedicati ai giovani e ai valori costituzionali. Le politiche da un lato, le iniziative istituzionali dall'altro, sono due fronti di un ampio impegno che non deve conoscere colori. L'Italia ha estremo bisogno dei giovani, del loro entusiasmo, della loro capacità di guardare le cose in modo originale, della loro sensibilità su certi temi. Pensa a quello sull'ambiente, per esempio. Dobbiamo poter arricchire la società con il loro contributo. Non resta quindi che augurarvi buon lavoro. Un buon lavoro di cuore a tutti voi.